Campo Fiorini è un prodotto reale in Italia, nato nel 1964. Il vino che è stato prodotto con una tecnica smarta del mio padre Guido nel 1964 per aggiungere qualche grape di Avernone in una semplice perpolicella per avere più potere, più carattere e più body. Tras la linea degli anni ha sempre stato capito di rinnovare, ma sempre mantenendo i stessi piloti, per essere un vino che è facile da bere con la città, che è facile da bere con la città, e può durare per molti anni. Ma, ovviamente, è molto piacente e ricco, ha parlato la lingua delle semplici cose dell'Italia, che hanno fatto una grande Italia. Ogni anno deve essere rinnovato, come ogni classico, bisogna avere qualcosa ogni anno per mantenere classico. e, fino ad oggi, noi stiamo presentando il 2020 Vintage, che, ovviamente, è quello che ha fatto davvero il boost per 60 morasiati di Campo Fiorini, e anche un nuovo packaging che parla con la lunga storia di questo bellissimo vino. Salute!